Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, l'alta pressione continua a dominare sulla nostra regione, i 27 giornali si sono andati attenuando, nelle prossime giornate torneranno però protagoniste le nubi basse, intanto per oggi sabato 18 novembre sereno, poco nuvoloso, tendenza locale formazione appunto di nubi basse dal pomeriggio sui versanti marittimi, in particolare sull'imperiese, venti moderati settentrionali con locali rinforzi sulla parte centrale della regione, in graduale attenuazione, deboli settentrionali altrove, in attenuazione fino a deboli variabili o in regime di brezza, mare sotto costa in prevalenza poco mosso, localmente mosso a ponente, mosso a largo, in progressivo calo, temperature massime stazionari lungo la costa tra 16 e 21 gradi, nelle zone interne tra 11 e 16 gradi. Domani, domenica 19 novembre, irregolarmente nuvoloso per passaggi di nubi alti e addensamenti di nubi basse, associata una temporanea rotazione del flusso dai quadranti meridionali nei bassi strati, in particolare sul centro levante, tendenza schiarita sempre più ampia a partire da ponente a seguito di un nuovo ingresso di correnti settentrionali in quota, venti in prevalenza deboli dai quadranti meridionali con locali rinforzi in attenuazione dal pomeriggio, rotazione dal nord nord ovest in particolare sui rilievi, mare in prevalenza poco mosso, temperature minime stazionarie lungo la costa tra 8 e 11 gradi, nell'interno tra meno 2 e 3 gradi, massime in diminuzione lungo la costa tra 15 e 18 gradi, nell'interno tra 13 e 15 gradi. Chiudiamo con lunedì 20 novembre, inizialmente soleggiato ma con tendenza a parziale aumento della nuvolosità già dalla mattinata per l'instaurarsi di un flusso più umido dai quadranti meridionali, fino ad avere cielo localmente molto nuvoloso nel pomeriggio, venti deboli o moderati in prevalenza da est a sud-est e in rotazione da sud-ovest nel pomeriggio a ponente, mare poco mosso, localmente mosso, in particolare levante, temperature minime stazionarie lungo la costa tra 7 e 10 gradi, nell'interno tra meno 2 e 3 gradi, massime anch'esse stazionarie lungo la costa tra 14 e 17 gradi, nell'interno tra 11 e 14 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. Buon fine settimana a tutti!